Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Nel recente Angelus Bergoglio ha fatto un intervento davvero degno di nota e a tratti surreale. Ha portato la sua solidarietà a tutti i colpiti dal vaiolo delle scimmie e ha detto testualmente è emergenza globale, SIC, così leggo su Rai News, dunque su una fonte che viene giudicata usualmente affidabile, una fonte dei cosiddetti autoproclamati professionisti dell'informazione. Ancora una volta Bergoglio, dopo aver parlato in veste di guardia forestale amazzonica, dopo aver pontificato in veste di operatore ONG, ancora dopo essersi espresso in qualità di esponente di un partito liberal progressista, adesso parla anche da virologo e ci mette in guardia rispetto all'emergenza globale del vaiolo delle scimmie. Ora, chi ha letto il mio libro La fine del cristianesimo sa bene qual è la tesi che io sostengo, quella secondo cui il post cristianesimo liquido e smart di Bergoglio si caratterizza per una chiusura integrale alla trascendenza. Detto altrimenti, Bergoglio parla di tutte le questioni relative al mundus, dalle emergenze globali alle foreste in pericolo, e non si occupa mai di ciò di cui invece dovrebbe occuparsi un uomo di chiesa, ossia dell'anima e dell'eterno, del trascendente e dello spirito. Tutte questioni che sono permanentemente assenti nella teologia del nulla e nella religione bustochiana di Bergoglio.